Troppe persone all'interno del locale con diversi precedenti di polizia, per questo i carabinieri della compagnia di Cortona, dopo una complessa indagine, hanno ottenuto e notificato il decreto di sospensione della licenza al presidente del nightclub Paradise Club 1.0. I clienti, infatti, sia italiani che stranieri, avevano precedenti per spaccio di droga, furti, danneggiamenti e altri reati contro il patrimonio della persona, tra cui anche lesioni e minacce. Viste le premesse, i carabinieri hanno voluto concentrare l'attività sul locale per scongiore che potesse diventare un ritrovo per malviventi. Sono stati organizzati quindi dei controlli congiunti tra i carabinieri di Foiano e i carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro, al termine dei quali è stata contestata ai due soci e amministrazioni del club la violazione del decreto legislativo 286 del 98 per avere in concorso in qualità di datori di lavoro di fatto occupato alle proprie dipendenze lavoratrici extracomunitarie prive di permesso di soggiorno. Sono stati trovati all'interno del circolo avventori con precedenti per spaccio e sfruttamento della prostituzione. L'attività di indagine è stata svolta anche con l'ausilio della stazione di Foiano della Chiana dei carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Siena, al termine del quale lo scorso novembre è stato tratto in arresto uno dei due titolari per aver ceduto in diverse occasioni consistenti quantitativi di cocaina. I continui controlli da parte dei militari della compagnia di Cortona hanno fatto sì che la situazione fosse leggermente migliorata, tuttavia a seguito di queste importanti novità investigative i carabinieri hanno chiesto la sospensione dell'attività. Nella giornata di sabato è arrivato il provvedimento della questura di Arezzo con la sospensione di 15 giorni dell'attività.